Senta Presidente, prima di fare la mia domanda mi concedo di dirle che è bellissimo. Riceverà un mio segno di gratitudine. Grazie. Genevieve Macaping, italiana camerunense non extracomunitaria. Il primo direttore di un giornale, diciamo posso dire, di colore. No, 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 rivendico, rivendico la mia negritudine. Io mi sono un po' stufata di essere da sempre definita, rappresentata, marchiata dagli altri. Io sono italiana, sono calabrese, sono lombarda. Ciao, ci vediamo per la strada, fra poco, ciao. Sono camerunese, sono bambinichè. Io sono le molteplici lingue che io parlo, i molteplici luoghi che ho attraversato. Guarda me, io ti avrei sposato, te lo dico subito. E mi sono sempre sforzata di pensare che le alterità sono sempre almeno due. E non ho sempre capito perché quando si parla di straniero, di altro, quel altro, quell'altra, sono sempre io. E non ho sempre capito perché quando si parla di straniero,